In un'intervista pre-elettorale lei le chiesero a che cosa dovranno rinunciare gli italiani se voi andrete al governo e lei rispose ai favori, che cosa guadagneranno i diritti, come si sente dopo questa dichiarazione, dopo che c'è stata una lottizzazione feroce, diciamo avete occupato tutti i posti possibili, la RAI nel... Abbiamo messo lei alla RAI, io faccio l'attrice, non abbiamo occupato niente, coraggio, sono teorie... Non si non pensa che ci sia una lottizzazione feroce come pensano tutti, come si può vedere? Lottizzazione, non si può vedere da nessuna volta perché non è vero, sono state nominate delle persone che quando il governo ha il potere di nominare deve nominare qualcuno, è previsto dalla legge, se non nomina io la legge e ha nominato persone competenti, capaci e stanno facendo efficacemente il loro lavoro.